Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo in un nuovo appuntamento con Minecraft Signori, ieri abbiamo trovato la fortezza, o come cazzo la si chiama, non lo so, e oggi la esploriamo Signori, cosa abbiamo cercato? Dobbiamo cercare il portale, dobbiamo cercare le librerie, dobbiamo cercare di non morire Questa è un'altra cosa fondamentale delle nostre avventure Allora, iniziamo ad aprire tutte le porte e cerchiamo di capire un attimino com'è la situazione Ora, di qua c'è una scala, ok, qua c'è una corticina, mettiamo torce che non ci porta da nessuna parte Allora, le porte di ferro io le romperei direttamente, senza stare lì troppo ad aprire, a chiudere Eh, ok Ok, vedo tante porte di ferro, noi riusciamo a passare da tutte, ok Queste ci hanno portato, praticamente ci ha fatto fare il giro giro tondo Sì, quindi questa la possiamo eliminare, ok Di qua andiamo a sinistra, vedo delle torce, la cosa mi interessa Vedo delle torce, ma non ci sta nulla di interessante Ok, signori, però, piccola pausa Prima di partire, di continuare col video, vi ricordo di iscrivervi al canale Che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno Io ce la sto mettendo tutta, il resto è compito vostro, signori Basta cliccare sul pulsantino per seguire il canale e anche lasciare un bel cuoricino Un bel like e anche un bel commentino che io sono sempre pronto a rispondervi E detto questo io vi ringrazio sempre per i commenti, per i seguenti e per il supporto che date alla serie Bene, non lasciamo niente di, ecco lo sapevo, niente di non osservato Allora, io mi sono perso Questo è poco ma sicuro Io non so più da dove siamo arrivati noi Sto mettendo torce, come se non ci fosse un domani Ma non ho più la più pallida idea di dove siamo arrivati noi Stiamo arrivando tutte le porte di ferro Qui c'è una torce a terra Sì, quindi noi siamo, da questa parte noi già ci siamo stati Ok Porte aperte, ok Oh, ok, ok, perfetto Qui è da dove siamo arrivati noi Perfetto, ok Andiamo da questa parte, signori Torcia a terra Rompiamo questa porta Torcia di qua Apriamo questa Torcia a terra Di qua c'è qualcosa di nascosto che la fortezza ci vuole nascondere No, non c'è un cazzo Ok, rompiamo questa Torcia a terra Rompiamo questa Torcia a terra Non abbiamo trovato ancora nemmeno una cassa Signori, questa cosa mi dà parecchio fastidio Recupriamo questo ferro Dobbiamo fare anche una farm di ferro Signori, per quanto riguarda il discorso del drago Allora, il problema fondamentale del drago è che non abbiamo, penso, l'ender per, abbastanza ender per per aprire il portale Perché ne abbiamo due e ne abbiamo altre tre, ne abbiamo cinque in totale Non penso che con cinque riusciamo ad attivare il portale, signori Quindi mi sa che il drago dovrà ancora un attimino attendere la nostra, la nostra ferocia, la nostra cattivelia Però sopra io ci andrei dopo Finiamo di esplorare, di esplorare, di esplorare qua sotto Cosa mi mancava? Questa parte di qua Andiamo Andiamo all'avventura Allora, qui c'è una porta Ok Che direi che di qua non andiamo da nessuna parte Di qua si scende Di qua si scende Torcina Distruggi la porta Ok Torcina Questa la prima mi sa che non c'è nulla Non è vero Si continua ad andare Ok Porte su porte che noi apriamo Così abbiamo un segnale che siamo già passati di qua Anche se in questo preciso momento non mi ricordo più No vabbè dai Non ci siamo allontanati tanto da casa Diciamo dal nostro ingresso ancora non ci siamo allontanati tanto Siamo ancora sullo stesso piano No no siamo scesi di un piano Che cazzo lo dico Siamo scesi già di un piano Ok Qui c'è il muro Qui c'è una porta che apriamo Ma che non ci porta da nessuna parte E' una porta che non ci porta da nessuna parte Ok va bene Torniamo indietro Torniamo indietro Torniamo Indietro Dovrebbe Ah di qua non ce l'avevano andati Che cazzo lo racconti Ok Nulla Porta che non porta da nessuna parte Torcia Stiamo illuminando il mondo Sono contento che non stiamo beccando neanche un mostro Porta di ferro che non porta da nessuna parte Vediamo se per caso c'è qualcosa di nascosto Assolutamente no Quindi torcina tattica Andiamo di qui Porta di legno Che non ci porta da nessuna parte Abbiamo finito il primo giro di torce signori Ottimo Abbiamo finito il primo giro di torce Dagli così Iniziamo con il secondo giro Non abbiamo trovato ancora nemmeno una cassa dicevo Sperrei di trovarne almeno una Così posso liberarmila dal mio inventario Perché siamo un attimino attavanati di cose inutili Ok Di qua non si andava da nessuna parte Saliamo Non ci credo mai nella vita Che di qui non si vada da nessuna parte Intanto abbiamo trovato del ferro Zitto zitto che questo ce lo portiamo a casa E con piccola fortuna Ce lo portiamo pesantemente a casa Un bel po' di ferro Sento dei mostri Dei quali ce ne frega poco Perché non siamo qui per i mostri Siamo qui per le casse E per il portale Di qua c'è qualcosa che mi nascondi Altro ferro Va bene E' generoso signori E' generoso Noi il ferro ce lo portiamo molto volentieri a casa Non lo disdegniamo Disdegniamo Una cosa del genere va Ok 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 Questa Questa niente Nullo completo Un giro giro tondo Inutile Perfetto Ok Torniamo indietro Adesso si che possiamo tornare indietro Di qua da dove siamo noi Possiamo salire al piano di sopra Quindi ricordiamoci che è casa nostra C'è la strada per casa nostra E' al piano di sotto Ok Porticina tattica Torcia Scala Ok Torcia Perfetto Perfetto Fontana Quindi siamo al centro della nostra struttura Andiamo a sinistra 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 Torcia Torcia Porta Che ci porta alla prima libreria Ok Abbiamo trovato la prima libreria Signori Qui abbiamo trovato il centro della 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 nostra Eeeh Mamma mia Finalmente un mob Non ne stanno trovando nemmeno uno Mi sto preoccupando Allora Allora Noi siamo venuti di qua Perfetto Ok Torcina tattica anche di qui Allora Una libreria l'abbiamo trovata E di questo siamo abbastanza contenti Continuiamo un attimino A girare Ma mi sta inseguendo? No Eeeh No Non mi sta venendo proprio di faccia Anche lo scheletro Va bene Morite tutti Bastardi Due casse Subito così Al che non me ne dai nemmeno una Al che me ne dai due così di botto Mi piace la cosa Mi piace Sai come prendermi Ora le controlliamo signori Di qui Qui c'è una scala che sale Allora Andiamo alle casse Cassa numero uno Sbam Pane Un piccone Guarda Ti lascio più cose io Che tu praticamente La terra no La terra no Però questa Petra te la posso lasciare Questa te la posso lasciare Questa te la posso lasciare Eeeh Questa terra te la posso lasciare Questo pollo crudo Te lo posso lasciare Questo te lo posso lasciare E direi che ci siamo Anche la neve Te la posso lasciare Mi ha fatto un pochino di ordine Prima cassa inutile Seconda cassa Pane e mele Guarda le mele Me le porto Che mi possono servire Per fare le mele d'oro E ti ringrazio tantissimo Le altre Gianfrosaglie No Eeeh Allora Non ho capito bene Qui la situazione Lapislazzuli Eeeh I pesciolini Rompiscatole Ok Di qua si sale Però non so Eeeh Non so di preciso Di qua da dove andiamo noi Salve Buongiorno Ok Ok Sono un attimino confuso Però va bene Di qua non ci siamo passati No Non ci siamo passati Rompiamo questa porta Dove mi porta questa porta? Qui c'è una scala che scende E non c'è Nemmeno Una torcia Quindi noi siamo Allora Questa è la fontana Perfetto Dove è la nostra scala Da dove siamo arrivati noi? Eeeh Qui abbiamo ammazzato un zombie Ok Qui è la scala dove siamo Sto a fare una confusione Che non è normale Andiamo di qua signori Andiamo di qua Ok Guarda Dove avevo visto la libreria? Qui Perfetto Andiamo alla libreria Facciamo le cose fatte bene Di qua si scende Ok Che era la stradina Che avevamo visto noi Di qua non c'è nulla Ma mi sa che di qua si gira Da questa parte di qua Altra libreria Bene così Abbiamo beccato le due librerie Questo è molto importante Di qua c'è un passaggio? No Però ci mettiamo la torcia Si stiamo tutti più tranquilli Andiamo alle librerie signori Andiamo alle librerie Intanto noi ancora non lo stiamo trovando No Non lo stiamo trovando Il portale Ok Però che io dico Andiamo alle librerie E poi vado da tutt'altra parte Cassa per noi Sbam Passo gelato Me la porto a casa Anche se non mi serve A nulla Rompiamo questo Ehm Enorme Mamma mia Enorme signori E' enorme E' enorme A me mi piacerebbe Di sicuro trovare il portale Trovassimo il portale Sarebbe Una cosa importantissima Che stiamo un attimino Girando Senza trovare nulla Nel senso Senza trovare nulla No 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 Non posso dirlo Senza trovare nulla Ma stiamo un attimino Girando Senza una meta Precisa Ecco Ecco Senza una meta precisa Mi piace di più Altro ferro Per noi Che ci portiamo A casa In maniera Violenta Mamma mia Quanto ferro Che abbiamo peccato Qui signori Fammi scendere Ok Ehm Di qua Non ci sta nulla Ok Di qua Il nulla cosmico Di qua Perché ce la porta chiusa Non ce ne eravamo andati Ancora di qua Di qua ancora Si vede che non ce ne eravamo andati Apri questa porta Metti una torcia Ehm Uuuuh Un bel pesciolino Due pesciolini Che sono finiti nel buco E no Sono morti direttamente Ok Di qua fa il giro Giro tondo Quanto è bello Il mondo Ferro Che ci portiamo a casa Voi direte Ma perché sta qui A tutto sto ferro Se stai cercando Il portale E voi ci avete anche ragione Ci avete anche Da ragione In tutto questo Io ho perso le librerie Ehm Va bene Cerchiamo un attimo Di fare mente locale Di qua non sono passato Come è possibile Sì Qua è dove c'erano I silverfish Sì Ok Ok Dobbiamo un attimo Devo fare un attimo Di un mente locale E ritrovare le librerie Dobbiamo andare Ad analizzare Le librerie Sperando di trovare Qualcosa di interessante Mi sa che sto facendo Però il giro Giro tondo Può essere Ecco Questo non deve succedere Questa è la cassa Dove c'erano I due picconi Che abbiamo lasciato Ok 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 Una libreria Ce l'abbiamo Signori Una libreria L'abbiamo trovata Leviamo un attimino Tutte queste cose Che rompono solamente Le scatole Dove sono le mie Due belle casse Allora Una cassa Dovrebbe essere Tipo di solito E qua Perfetto Allora Efficienza 3 Protezione dal fuoco Ok Affilatezza 4 Ok Cosa lasciamo Questa terra inutile E poi Che cos'altro Lasciamo Questi blocchi Che però Non mi servono Prendiamoci Questi libri La carta Ce la portiamo Ma la carta Siamo pieni di carta Signore Non penso Ci servi L'altra cassa È di là Ok Dove è la scaletta Per salire Fatemi salire Ok Dai è così Respirazione 3 Aspetto Fuoco 2 E non è nemmeno male Questo Però io la terra Me la vorrei tenere Questi libri vuoti Sinceramente Non ho a che far Mene signori Decisamente no Allora Casse le abbiamo Trovate tutte No Di solito Sono 2 per libreria Qui sopra Non ce n'è Qui sopra Non ce n'è Qui c'è un buco Sospetto No Va bene Scendiamo Vediamo Se per caso C'è qualche Altra Cosa Che ci può Interessare Ma non Penso Perché Di solito Sono 2 Le casse Che mettono Nelle librerie Quindi Diciamo che Abbiamo trovato La prima cassa Proviamo a salire Di qua Può essere che Qua sopra Ci sta Un'altra cassa E infatti Ok Cassa Nascosta Per noi Con tanto Ferro Tanto Bello Questo Bella Cassa Il pane Lo lasciamo Perché non ci serve Certo Potrebbe essere Un po' più sostanziosa Questa cassa Signori Miei Un po' Più sostanziosa Qui c'è una Porta di ferro Questo video Non so Quanto Cazzola Sta durando Però Va Bene Allora Ci manca Una libreria Che in questo momento Non ricordo Dove sia E trovare Il portale Di qua Si scende Ancora Si scende E' buono Il portale E' Delle zone Basse Qui ancora Non ce l'avamo Stati Rompi Questo Qua c'è qualcosa Interessante Ho finito Di nuovo Le torce Bene Ah io sono Rimasto Con Ottimo Con il Metodo Oro Praticamente Ho lasciato Le metto Quello Giusto A casa Ottimo Intelligente Bravo Bravo Maullo Quando dice Organizzarsi bene Per la partenza Ecco L'hai fatto Male Ok Di qui Non c'è Assolutamente Nulla Noi veniamo Da là Perché la porta È aperta Apri questa Torcina Distruggi Questa Torcina È enorme Signori Come Come Cazzola Ci Torniamo A casa Ma Soprattutto Dov'è Il portale Perché Non riesco A trovare Il portale Mannaggia A chi Non ve lo dice Pure Di qua Continuo Ok Io mi sto Letteramente Confondendo No Perdendo Ci siamo Già persi Da Mo Mo Che ci siamo Persi Guarda Da un bel po Veramente Decisamente Sì Decisamente Sì Riuscirò A tornare A casa In qualche Maniera Sì Diciamo Che lo Ritroviamo Magari Off camera Il nostro Portone D'ingresso Però Cazzarola Cazzarola Veramente Enorme Enorme Non trovo Il Quello Che Realmente Ci Interessa Queste Sono Tutte Celle Niente Da Niente Da Fattor Niente Da Indietro Torniamo Indietro Di qua Non c'è Nulla Però Di qua Scendendo C'è Un altro Pezzo Di Fortezza Che Da dove Ci si arriva A questo Pezzo Di Fortezza Da Non Si Sa Che Parte Da Non Si Sa Che Parte Porca Miseria Dov'è Il mio Portale Mi date Il mio Portale Non chiedo Troppo Dov'è Il mio Portale No Ho finito Altre Torce Stiamo Finendo Tutto Quanto L'importante Che non Finisce Il Carbone Se Finisce Il Carbone Abbiamo Dei Problemi Va Bene Signori Una Ricerca Infinita Va Bene Facciamo Una Cosa Mi Metto Faccio Un Taglio Perché Se No Noi Non Usciamo Più Faccio Un Taglio E Vediamo Appena Trovo La Fortezza Signori Appena Trovo Il Portale Perché Qui Se No Finisce Che Facciamo Un Video Di Tre Ore Praticamente Non va Bene Questa Cosa Decisamente Non va Bene Ok Signori Ce l'abbiamo L'ho Trovato L'ho Trovato Dopo Un'estenuante Ricerca L'ho Trovato Ce l'abbiamo Fatta Ce l'ho Ce l'ho Sto Facendo Un giro Nelle Vicinanze E ora Andiamo A recuperare Andiamo A recuperare L'ho Trovato L'ho Trovato Eccolo Zona Era Praticamente Di fronte Allora Di qua Si sale Occhio Ai pesciolini Che Questi Rompono Solamente Le palle Ma Annaggia Voi Annaggia Voi Era Praticamente Ah no Si stanno Rompendo Che cos'è Tutto Questo Delirio Allora Con calmazione Per tutti Dovete morire Male Tutti Quanti E basta Devo finire Il video Che già sta Durando Troppo Così Beh Basta Porca Porca Di una Paletta Ambriaca Volete Morire Ancora Ne esponono Ma porca Miseria Basta Mi siete calmati Si ce l'abbiamo Fatta Era praticamente Di fronte L'altarino Questo di qua Da questa parte Di qua C'avevamo La biblioteca Che non abbiamo Esplorato Questa è quella Che non abbiamo Esplorato O quella Che abbiamo Esplorato Neanche mi ricordo Più Sinceramente Vediamo Dalla cassa Lo capiamo Subito No Questa Infinitettiro Multiplo Questa è tanta Roba Signori Questo ce lo portiamo E questo invece Che ci sta Protezione 3 Questa è tanta Roba Questa è tanta Roba Andiamoci a prendere Anche l'altra Cassa Che se uno Dica il gente Dovrebbe stare A piano Di sopra Quindi Prendiamoci Ve l'ho fatto Solo intravedere Il portale Signori Ora lo andiamo Ad esplorare Bene bene Vediamo Efficienza 4 Porca Miseria Che molliamo Questo Via Poi Efficienza 3 Anatema E carica Rapida E questa è tanta Roba La terra La lasciamo No Lasciamo Questo Ok Fortuna Del mare 2 Miglioriamo La canna Pesca Efficienza E protezione 3 Ce la portiamo Pure E lasciamo Che cosa Questi blocchi Di qua Che non ci servono A niente Gli altri libri Però li lasciamo Signori Poi li Verremo a recuperare Un giorno Un giorno Li verremo a recuperare Che tanto Sono vuoti Quindi non ci servono Pallestemente a nulla Abbiamo perso Un video Per cercare Il portale Quando ce l'avevamo Praticamente davanti Ai nostri occhi Ci siamo messi A esplorare troppo E ci siamo persi Di casa Praticamente Comunque Allora Andiamo a vedere Lasciamo perdere Questi rumori Tra l'altro Qua c'è una cassa Che non abbiamo Nemmeno esplorato Nella fretta Di andare a cercare Cose nuove Questo è un regalo Signori Questo è un regalo Importante Questo è un bellissimo Regalo Di qua ci sta più niente No Va bene Andiamo al nostro portale Signori Andiamo al nostro portale Andiamo al nostro portale Vediamo Rompiamo Questo di qua Che non ci serve Ok Non c'è manco Un ender Per Perfetto Quando uno dice Hai fortuna Hai fortuna No Non abbiamo Nessun tipo Di fortuna Allora Quante ne abbiamo Quattro Quindi fai così Fai così Fai così Le trasformiamo Tutte e quattro Ne abbiamo sei Perfetto Signori Stiamo Nella 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 cacca più totale Una Due Tre Quattro Cinque E sei Ce ne mancano Altre sei Signori Per poter Attivare il portale Cosa che non possiamo fare Nel video di oggi Ma Soprattutto nel video di domani Creeremo il portale Per andare nel nether E torneremo a casa nostra Detto questo signori Vi ringrazio Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suoi studenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao